Sì, ma infatti su questo mi viene da pensare che c'è una nota che si potrebbe fare, un'osservazione, su cui sarebbero d'accordo sia Diego Fusaro che il gruppo rock Niuma D'Alarmina, ovvero il fatto che il capolavoro delle classi dominanti in Europa in queste decennie è stato quello di aver rotto il vincolo solidaristico dei proletari. Ciao Ale. Ciao Andrea. Allora, intanto parto con l'invito a chi ci dovesse ascoltare di registrarsi al canale YouTube o a quelli podcast, se ci ascolta via podcast, e lo ringrazio fin d'ora, insomma. Anch'io, mio socio. Ecco, poi mi piacerebbe parlare di un argomento interessante, visto anche perché ultimamente stai leggendo breve e lo stai studiando, ultimamente in realtà, sono un po' di anni, ultimamente, è per modo di dire. C'è Diego Fusaro che viene considerato un po' il suo erede e il suo, diciamo, portavoce nel presente dei suoi pensieri e so che tu non sei molto d'accordo. Ti va di parlarne e spiegare la tua opinione in merito? Certo, beh, devo dire però una cosa, devo mettere le mani avanti. Io in realtà non ho mai letto un libro di Fusaro, però chiaramente mi sono trovato più e più volte davanti ai suoi post su Facebook e quindi non posso avere una visione, diciamo, a 360 gradi del suo pensiero, però quello che emerge da quello che dice in questi post oppure quello che dice in alcune conferenze che ho sentito, anche dal vivo tra l'altro, mi sembra che emerga una grossa differenza rispetto a Preve. Non so se è voluta oppure se non lo sia, però sicuramente c'è, sicuramente c'è. Perché il problema di base, secondo me, è il fatto che Fusaro si definisca un allievo indipendente di Hegel, di Marx, di Gramsci e di Gentile, quindi tutte persone, tutti autori che possono essere comunque rubricabili sotto la voce di idealismo, forse l'unico su cui bisognerebbe avere qualche dubbio più o meno marcato, ci sono fiorbi studiosi che affermano che in realtà non faccia parte dell'idealismo ma del materialismo storico, che è Gramsci. Però credo che Fusaro invece consideri comunque Gramsci un idealista. Però poi quando lui cala nel reale le sue considerazioni, io di idealismo o di comunitarismo declinato in maniera idealista ne vedo gran poco, ecco insomma, questo sicuramente sì. Sì, quindi per chiarezza tu stai valutando il Fusaro personaggio pubblico? Esatto, sì. Ok, è per chiarezza che dovessi ascoltarci, magari avendo letto i libri o avendo assistito alle lezioni di Fusaro, magari può intervenire e completare l'analisi. Sì, sì, no, assolutamente, assolutamente. Poi, intendiamoci, in realtà il discorso che si potrebbe fare sulla problematica fusariana si divide in due parti, no? C'è una pars costruens in cui noi, o io quantomeno, parlerò bene di Fusaro. È una pars destruens in cui lo criticheremo. Quindi i detrattori di Fusaro, se vogliono, possono passare subito alla seconda parte. Quindi se mi lasci un attimo fare la pars costruens... Sì, 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 va bene, la dividiamo nei pregi. È che io farò fatica a dividere pregi e difetti, comunque. No, mi immaginavo che tu non avresti molto partecipato a questa prima parte. No, no, io ritengo anche che abbia dei pregi, poi li dirò. No, però ammetterai che è una buona idea questa, perché in questo modo potremmo essere insultati sia da coloro che apprezzano Fusaro per i demeriti e da coloro che lo detestano per i meriti. No, ma infatti succederà proprio questo. Esatto, sì. Un po' un omnibus mostruoso che rischia di non piacere a nessuno perché vuole piacere a tutti, no? No, quello che voglio dire come pregio è che innanzitutto, quantomeno, Fusaro, quando frequenta i vari salotti delle varie trasmissioni della tv italiana, sappiamo essere più o meno monopolizzata da determinati voci favorevoli a certi interessi e non altri, è una nota discordante. Infatti spesso e volentieri lo trattano anche un po' pesci in faccia. Ricordo un po' una serata con formigli dove onestamente non so come faccia Fusaro a rimanere tranquillo, io avrei reagito in maniera un po' diversa di fronte all'atteggiamento di formigli medesimo, insomma. Perché era chiaro che stava facendo fita di non capire quello che Fusaro gli stava dicendo. Fusaro sostanzialmente gli stava dando ragione, no? Per cui addirittura. E tra l'altro poi ho letto anche online, non metto link perché penso che se qualcuno è interessato a Fusaro saprà sicuramente di cosa sto parlando, degli attacchi al nostro che mi sono sembrati però un po' troppo a personam. Insomma, e qua i pregi sono anche meno finiti da parte mia. Ok. No, beh, allora premesso che Fusaro ha una storia che inizia, pubblica per me, che inizia sul blog del Fatto Quotidiano, dove non sono d'accordo su tutto quello che scrive, però ha un pregio che riporta al centro della discussione l'etica. Un'etica, perché si è persa su vari temi. E' una cosa che va detta, è davvero, e la sottolineo anche io, è che Fusaro regolarmente si prende degli attacchi personali. Ai tempi, io ricordo benissimo, Riccardo Dalferro, Rick Duferro, che usava l'inizio di fama di Fusaro per attirare su di sé le luci un po' della ribalta e non è che si limitasse molto. Ora è diventato un po' il paladino del politicamente corretto anche lui, però quando gli fa comodo per un po' di immagine ai tempi non è che stava lì tanto andare per il sottile. E lui tutto sommato gli va riconosciuto il fatto di avere un certo aplomb, perché lui è un buon incassatore. Su questo gli va riconosciuto. A mio parere, però ti faccio l'esempio proprio del Formigli, quando lui era lì, era a parlare di Greta, dei mutamenti climatici. Lui stava dicendo una cosa giusta, a mio parere, in mezzo a due scivoloni. Cioè era un bel panino con un affettato molto buono e le fette di pane un po' così così. Perché diceva una cosa sacrosanta. Questo tentativo di questa nuova, diciamo, rivoluzione ecologista vuole mettere sullo stesso piano il poveraccio che guadagna un dollaro al giorno con quello che spende un milione di dollari al giorno. No, no, ha ragione Fusaro. Quando si fa la famosa scaletta di chi inquina di più, del CO2, non dovrebbe essere fatta per nazioni. Perché è chiaro, sì, l'America e i paesi arabi sono quelli che inquinano di più. Il problema è che in America ci sono anche 30 milioni di poveri, non inquinano come ricchi. Bisogna farlo in base alla ricchezza, questa scaletta. E quindi ha ragione Fusaro. Il problema, qual è il problema di Fusaro, secondo me, quando è lì? Il primo è che tratta Greta, mancava solo che la chiamasse Grettina. Diciamo la verità. Eh, sì. No, era adorabile, però. Eh, no, è adorabile, però, anche perché poi, io me la ricordo, sta roba, continuava a dire perché parlano solo gli scienziati. Sì, ma Greta non dice le sue opinioni. Riporta quello che dicono gli scienziati in linea di massima. E poi, soprattutto, ha fatto, secondo me, un errore grossolano. Ha messo lì una pistola carica, ha sparato un colpo, che gli si può rivoltare contro. E la usa spesso questa arma. Lui dice, se dicesse delle cose veramente pericolose, non gliele lascerebbero dire. È vero. Il problema è che vale anche per te, Fusaro. Perché io ho memoria di quando, praticamente, la mattina alle 8 c'era lui a omnibus, il pomeriggio era in un'altra trasmissione e la sera era dalla Gruber. Ed è stato chiaro come il sole che l'hanno pompato moltissimo in quel momento, perché doveva essere un nuovo Scanzi. Perché ha molte cose di Scanzi, no? È un belloccio, ha l'occhio forbito, tutto quello che vuoi. È un personaggio, perché poi con questa storia, che lui non può parlare l'inglese, il problema è che ha messo in mezzo al ring una pistola che gli può essere usata contro. E secondo me una persona molto intelligente non dovrebbe usare questa tecnica, perché è come se io e te domani facciamo un video contro Scanzi e la prima cosa che diciamo è che è un tutologo. Sì, anch'io allora sono un tutologo, capito? Tutti siamo dei tutologi. Poi è chiaro che ci sono dei livelli diversi, perché è chiaro che Scanzi, se inizia a parlare del mondiale di patinaggio del 32, sa delle cose che non sa la gente che c'era lì, naturalmente. Quindi è chiaro che quando si parla di tutologo nei suoi riguardi ha un perché. Però io non metto un'arma che può essere usata contro di me. Quindi lì lui secondo me è bravo a incassare, però ogni tanto perde un po'. Sì, però scusami, ti devo correggere, però noi non siamo dei tutologi, però. Noi siamo dei dilettanti interdisciplinari. Ok, grandissimo. Poi senti, se vuoi dirmi la tua, sul lato negativo, che sono curioso. Più che altro, quello che io critico di Fusaro è proprio un errore teoretico. Un errore teoretico che si verifica quando Fusaro parla, o comunque implica nelle sue parole, il vincolo comunitarista e il sovranismo. Prima però devo fare un piccolo detour per capire un po' meglio i concetti, per capirci, insomma. Cioè, innanzitutto, comunitarismo nella sua accezione più nuda e cruda non è altro che, come abbiamo detto più volte, il riconoscimento del vincolo sociale e della prassi che ne deriva. Mentre sovranismo è una risposta molto radicale, molto netta alla domanda, peraltro molto difficile anche da un punto di vista della democrazia rispondere a questa domanda, diciamo, e a cui anche noi, tra l'altro, in un secondo momento dovremmo poi rispondere, che è chi è che deve andare a definire i vincoli sociali stessi? E il sovranista risponderebbe colui che ha una lunga tradizione di insediamento in quel dato territorio. Chiunque venga da fuori non deve azzardarsi a metterci becco, né il capitalista polide globalizzato, direbbe Fusaro, no? Sì. Nel suo lessico sempre un po'... E non ti chiede i diritti, né l'immigrato o lo straniero in genere. Mentre l'autoctono può decidere, perché conosce esattamente come ci si comporta in quel territorio, perché ha una lunga esperienza di stanzialità in quel territorio stesso, no? Fusaro tende a rispondere più o meno in questo modo, solo che lui, facendo così, attribuisce a dei vincoli di serie C e D, cioè quei vincoli sentimentalistici, tradizionalistici, che conferirebbero agli autoctoni una sovranità, no? Sulle decisioni sopra la prassi comunitarista, attribuisce a dei vincoli di serie C e D, dicevo, delle caratteristiche di idealità, quindi di razionalità, elevandoli a vincoli di serie A. Cioè, insomma, confonde Hegel, Fichte, Marx con Burke, con De Maestr, errore che Preve non ha mai fatto. Cioè, Preve aveva molto chiara questa differenza. Mi sembra anche un po', ma la fede non vedere questa differenza tra Preve e Fusaro, se devo essere sincero. Però, ecco, secondo me questa confusione che Fusaro ha tra i vincoli comunitaristi di un certo genere e di un altro genere, questo mi sembra un qualcosa che lui, magari poi nei suoi testi, riesce a risolvere, però quando si presenta in televisione non risolve, ecco, insomma. Ora, io non so qua, sono molto indeciso, però non credo che in tutto ciò ci siano gli estremi per definire Fusaro di destra, to cure, anche se lui ammicca molto, soprattutto ultimamente. Certo che però si può dire che faccia parte di una sinistra preistorica. Cioè, la cosa più gentile che si può dire di Fusaro da questo punto di vista è proprio che faccia parte di una sinistra preistorica, perché ormai la modernità ha sciolto certi vincoli. Da quel punto reintrodurli giustificherebbe anche delle barbarie, insomma. Cioè, non è che tutto il comunitarismo va bene, purché sia comunitarismo, no? Io ho qualche difettuccio, diciamo, potrei tirartelo fuori. Vai, vai. Allora, naturalmente io mi tengo molto sul basso e quando colpirò dei temi, diciamo, marxismo, eccetera, so che qualcuno potrebbe mettersi le mani nei capelli, ma prendetela veramente da uomo della strada che sta parlando. Intanto la prima cosa... Speriamo che ci ascoltino solo dei marxisti calvi. Sì, vabbè, vediamo. Intanto la prima cosa che ti offenderai anche tu, no, io devo sapere se a filosofia fanno un corso di posa, se vi portano a teatro, vi fanno un esame con dei tè, perché non è possibile. Io so, siccome io monto i file audio, quindi a colpa mia ci sono problemi, so che ogni tanto tu hai dei cambiamenti di voce che mi sembra Carmelo Bene di fronte, quando mi capita di vedere in tv Diego Fusaro, uguale, è una roba, anche delle pose, delle espressioni, cacciari non ne parliamo. Quindi veramente, amici di filosofia, toglietelo sto corso, per favore, per favore, perché a volte questa impressione che uno per dirti ciao si debba proprio strappare da dentro qualcosa è veramente insopportabile, è una roba incredibile. No, ma questo secondo me è la forza dell'esempio. che è una tradizione che si porta avanti, secondo me, da tempi remotissimi, questo della posa filosofica, che chiaramente uno copia inconsciamente. Sì, probabilmente i professori si mettono in una certa posizione, sì, può essere, può essere. No, ma a parte questa cosa, secondo me Diego Fusaro, il grosso problema di Diego Fusaro, è che ha rincorso, non il consenso del grande pubblico, ma ha rincorso, diciamo, un consenso mirato su di lui, spostando di volta in volta le posizioni. Diventa anche cattivo magari, però siamo partiti dal fatto che Fusaro ha iniziato a vendere ai piccoli industriali, agli artigiani, un mito, che era quello della lotta di classe, che doveva toccare proprio i padroni e gli operai, e ha fatto diventare i padroni operai e i cattivi e brutti l'Unione Europea. E l'ha fatto, a mio parere, con grande furbizia, perché ha venduto un prodotto che volevano sentirsi dire, volevano sentirsi dire che è colpa dell'Unione Europea, e in alcuni casi è vero, però molti di queste persone hanno fatto anche i milioni grazie all'Unione Europea, perché hanno le commissioni in Germania, hanno gli aiuti europei, quindi diciamo che c'è molta furbizia, lui è stato molto furbo in questo. Nel momento in cui questo mercato si è chiuso ed è stato con Covid, perché sono successe delle cose più grosse, e in più ora c'è il recovery plan. Cosa ha fatto Diego Fusaro? Diego Fusaro è corso dietro al mondo negazionista e Novax, e l'ha fatto in una maniera che io trovo imbarazzante, ma proprio per la sua intelligenza. Guarda, leggo, Twitter di ieri, 14 novembre, quindi sapete anche quanti giorni di ritardo magari esce il video, se, virgola, quando piove, virgola, il 90 per, spazio, 100, delle persone hanno l'ombrello ma si bagnano ugualmente come il restante 10 per centro delle persone che non hanno l'ombrello, virgola, che idea vi fate voi dell'ombrello? Ora, il centro è un errore, diciamo, normale, ci sta, succede. Il percento staccato, non benissimo, e non aver usato il simbolino della percentuale, perché probabilmente è di origine anglosassone e allora per lui è assolutamente impensabile, è un altro discorso, però è una persona, da un intellettuale, non accetto un ragionamento del genere, è perché è veramente una follia, ha perso un po' il controllo, perché io non credo che lui pensi ste robe, tra l'altro. Per me, anzi, guarda, non dico che sia vaccinato, perché poi magari inquirela, querela, ma voglio dire, secondo me, non le pensa neanche ste cose. Si è accorto che in questo momento c'è un mercato e ci sta andando dentro. E tra l'altro, c'è l'esempio, lui aveva, se n'era uscito con la storia, che non potevano rendere obbligatorio il vaccino perché la Costituzione impediva la cosa. Poi evidentemente, siccome lui lavora nel mondo universitario, qualcuno gliel'ha fatto notare, no? E lui se n'è uscito con, se fossero davvero certi dell'efficacia del vaccino, lo renderebbe obbligatorio perché la Costituzione lo permette. Tra l'altro, ho fatto anche cazzare molti Novavax per questa cosa, no? Perché è sembrato che abbia cambiato posizione. Ecco, io questa cosa non l'accetto da una persona che comunque oggettivamente è molto intelligente perché Frusaro è una persona intelligente. Ritengo che ci vorrebbe un po' più di coscienza di quello che si fa. Fermarsi un po' prima del diventare ridicoli era una cosa che doveva fare anche perché va a diminuire tante cose che può aver fatto anche intelligenti. È vero che le idee e le persone non sono la stessa cosa, però Diego, se mi ascolti, fai due passi indietro. poi non so cosa ne pensi tu di questa cosa. Ripeto, secondo me più che altro è che lui davvero, a questo punto faccio anche una figura barbina perché dovrei aver letto i testi per poter dire una cosa chiara, però ripeto la mia impressione è che davvero lui faccia fatica a mettere insieme queste due idee del comunitarismo, cioè faccia fatica a farle in qualche modo convergere. Ti faccio anche un esempio molto interessante perché ritorna quell'idea che tu mi dicevi prima dei ricchi e dei poveri e del peso della colpa del cambiamento climatico. Sì. prima io ho detto credo se mi ricordo bene non è che tutto il comunitarismo va bene pur che sia ecco direi anche un'altra cosa soprattutto non è affatto vero che soltanto quelli che vivono in un dato territorio hanno il polso della situazione per poter dire qui questo è giusto e questo è sbagliato. Oltretutto quando si fanno queste retoriche da piccola patria che tu sai che io ho sempre detestato profondamente e questo Samira Min l'aveva capito molto bene e Costanzo Preve cita Samira Min su questo c'è sempre questo ricatto in base al quale gli appartenenti a una certa nazione oppure a una certa regione a una certa entità territoriale devono considerarsi dei privilegiati a far parte del club senza tener conto però dei differenziali di reddito e quindi delle distinzioni di classe tanto per usare una parolaccia perché ormai dire di classe sembra una cosa assolutamente questo sì sinistra preistorica ma di quella veramente pericolosa che li separano dal resto dei membri di suddetto club per cui sostanzialmente tu basta che sei di quella regione lì o di quel stato lì o di quella compagine territoriale lì e devi considerarti uno che è privilegiato solo che magari questa persona ha 100 euro in banca gli altri ne hanno un milione esattamente e quella è la vera differenza non è il fatto di vivere in un certo per cui è chiaro che anche l'idea di cos'è che è giusto fare qui è diverso abbiamo tutti e due magari delle tradizioni di vita di questo territorio che possono risalire al medioevo però la mia idea è completamente diversa della tua però no poi sai cosa io ho l'impressione perché poi per un periodo me li sono anche studiati tutto quel mondo sovranista torno a Fusaro che il fine sia una sorta di frammentazione degli stati esistenti quasi in realtà più omogenei per capirci effettivamente la Lombardia non è che c'entra tanto con la Basilicata quindi questa idea anche della tradizione di tenere insieme i valori di un paese di una storia a me sembra un po' campata in aria nel momento in cui poi l'obiettivo è quello sì l'Italia adesso ci fa comodo però poi un domani guardiamo il reddito che è meglio e divediamoci per reddito perché leggendo tra le righe e non solo tra le righe delle volte l'impressione è proprio quella e allora mi sembra che il comunitarismo li vada un po' a farsi benedire perché sai è facile essere fare comunitarismo tra milionari milionari sono e anche tra poveri attenzione se tu vai nei paesi molto poveri la gente spesso è molto solidale no? perché? perché sono tutti nella stessa situazione il problema che c'è oggi è che nel giro di 100 metri ci sono persone che vivono in condizioni sociali che sono lontanissime è lì che ci vogliono le palle per essere comunitaristi sì ma infatti a parte che su questo mi viene da pensare che c'è una nota che si potrebbe fare un'osservazione su cui sarebbero d'accordo sia Diego Fusaro che il gruppo rock Gnumod Alarmina ovvero il fatto che il capolavoro delle classi dominanti in Europa in questi decenni è stato quello di aver rotto il vincolo solidaristico dei proletari beh sì sì esattamente il fatto che tra l'altro delle esperienze di vita così lontane alla fine potrebbero arrivare comunque allo stesso ragionamento mi fa capire che tutto sommato il logos è comunque perfettamente traducibile tra differenti culture ma questo è un discorso che ci porterebbe molto lontano beh ma è l'osservazione della realtà alla fine se la guardi senza il paraocchi ti rendi conto che i meccanismi sono quelli beh senti direi che abbiamo detto tutto evitando anche di toccare temi da querela se non hai niente da aggiungere almeno spero che nessuno si sia offeso spero che il video vi sia piaciuto e in questo caso se mettete un mi piace ci fareste veramente un grandissimo favore ringrazio a tutti e grazie a te Andrea grazie mille graziale graziale tutto e in questo caso se mettete un mi piace ci fareste veramente un grandissimo favore ringrazio a tutti e grazie a te Andrea grazie mille graziale graziale